Il 4 febbraio è il termine fissato dal Tribunale di Bologna per la consegna dei piani industriali di alcune società del gruppo Maccaferri, pressing della FIOM, perché nelle operazioni di salvataggio vengano evitati scorpori di rami d'azienda. Giorgio Maria Leone. Entro il 4 febbraio cinque società in concordato del gruppo Maccaferri dovranno consegnare al Tribunale di Bologna i nuovi piani industriali. Poi ad aprile toccherà la Samp di Bentivoglio. Seci, la holding con 750 milioni di euro di esposizione finanziaria, due settimane fa è invece uscita dalla procedura concordataria per non avere presentato l'atteso piano di rientro. Un fatto grave secondo la FIOM, considerato che si tratta della capogruppo e che finora al sindacato non sono arrivate comunicazioni ufficiali sulla complessa ristrutturazione che riguarderà il futuro di almeno 600 dipendenti su 4.500. È essenziale fare chiarezza perché il 4 febbraio è vicino alle porte e noi vogliamo capire quali sono gli investimenti, vogliamo capire quali siano gli obiettivi, il rilancio, come si possa rilanciare questa azienda, che sicuramente continua ad avere un marchio in giro per il mondo, ma indubbiamente questi mesi hanno pesato sull'efficienza, sulle produttività. Sarebbero quattro i fondi di investimento interessati ad operazioni di salvataggio, tuttavia, sottolinea la FIOM, si tratta di notizie solo ufficiose e soprattutto non è chiaro se ci saranno scorpori di rami di azienda, ipotesi che troverebbe la più ferma contrarietà del sindacato. Davvero sarebbe la perdita di un patrimonio e noi non accetteremo mai lo spezzatino, perché lo spezzatino vorrebbe dire che è solo una questione di tempi sulla fine di questo gruppo industriale.